Uniposte S.P.A. è un operatore postale autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico. La sua rete si sta strutturando su tutto il territorio nazionale, con una filiale a Roma in via Ludovisi 35, a Gorizia in viale 24 Maggio ed ora anche in località Quadrivio di Campagna in provincia di Salerno. Competenze e cortesia da parte dei responsabili Stanislao Marcantuono e Tatiana Balestrieri, ma soprattutto lo store fornirà una serie di servizi tra pagamento bollettini e apertura a conti corrente, cancelleria e telefonia, in una dimensione fatta di innovazione e sviluppo. Uniposte S.P.A. nasce da un'analisi triennale di nuove opportunità e nuovi modelli di business, convinta di poter portare sul mercato un nuovo modello distributivo, sia per le famiglie che per le imprese. Dopo mesi e mesi di lavoro, anche se all'anagrafe uniposte compie sei mesi al registro imprese, siamo riusciti ad inaugurare il primo punto vendita, che è un capofila di tantissimi punti vendita che sono già contrattualizzati e già cantiriate sul territorio in diverse regioni d'Italia. Noi abbiamo abbracciato questo progetto qualche mese fa, più o meno da dicembre dello scorso anno. Abbiamo aderito perché è un progetto ambizioso che pensiamo che ci possa far crescere, già avevamo un ufficio ben avviato al quadrivio di campagna, ma pensavamo di voler crescere ancora di più. Quindi uniposte ce lo può permettere e siamo convinti che possiamo fare delle belle cose insieme a questa azienda. Sicuramente il progetto è un progetto ambizioso e si sposava benissimo con quello che noi già facevamo qui sul territorio. La nostra voglia però di allargare, definiamoli orizzonti, nonché servizi, ha fatto sì che noi sposassimo questo progetto che ci è stato proposto dal Presidente che non finirò mai di ringraziare. Uniposte S.P.A. io l'ho conosciuta tramite le persone del Presidente Francesco Paduano, il quale mi ha coinvolto in questo progetto bellissimo, che ho condiviso appieno non solo dal lato manageriale, quindi per quanto riguarda lo sviluppo, ma anche con l'apertura di un point insieme a mia moglie e un altro socio, il San Islano Marcantuno. È un progetto che mi affascina tanto e su cui sto puntando tantissimo, poiché ci sono tutti i requisiti per fare veramente grandi cose. Sto curando la parte dello sviluppo del progetto e ne sono veramente fiero perché sta rispondendo molto molto bene. Nell'ambito della nostra partnership con IP International S.A. sicuramente la commercializzazione dei nostri prodotti che sono il MyPost per quanto riguarda l'accettazione delle carte, che è un prodotto tra i più innovativi in Europa, e un prodotto invece proprietario di Uniposte che è l'ActiveCard, che è una carta prepagata con tutta una serie di plus legati proprio al mondo Uniposte. Quello che ci auguriamo tutti è che si raggiungano gli obiettivi che si siamo posti tutti insieme di avere presto centinaia di punti vendita Uniposte in Italia e il fatto che oggi sono qui, diciamo proprio nel primo store italiano vuole essere un suggello di questo auspicio.